Un altro annuncio, Ubi Banca sponsor dell'Under 15, all'inizio probabilmente di un rapporto che si consoliderà? Sì, sicuramente all'inizio, anche perché noi, come tu ben sai, siamo partiti in ritardo in tutto e quindi con l'Ubi abbiamo preso anche contatti un po' tardi. E' veramente una cosa molto importante, a parere mio, perché iniziamo da questo, un'eccellenza nel sistema bancario e speriamo che anche noi, con il nostro settore giovanile, diventeremo un'eccellenza. Tanto, hai l'ottimo momento, probabilmente anche un incentivo anche per altre aziende che volessero avvicinare. Assolutamente sì, noi stiamo crescendo, penso, abbastanza bene. Poi nel calcio, tu mi insegni, alla fine sono i risultati che contano, quelli fino adesso ci danno ragione. Comunque soddisfatto della risposta della città di questi mesi? Sì, sì, assolutamente sì, ho visto anche gli spettatori di domenica, siamo messi bene in Lega Pro, quindi questa è una soddisfazione più, proprio per un discorso puramente economico, proprio come una soddisfazione di portare la gente allo stadio, quella cosa più importante. Siamo onorati di questa sponsorizzazione, sì, nel settore giovanile, Under 15, ma ecco la prospettiva è molto interessante e devo dire che per noi, appunto, con gran piacere abbiamo accolto questa vicinanza, proprio perché rientrava un po' nei nostri programmi, il fatto che oltre agli sponsor industriali ci fosse anche un riferimento bancario, devo dire che UbiBanca, che ha presso le redini della banca del territorio, ha dimostrato apprezzamento e quindi è nata questa partnership. Il progetto è nato su richiesta da parte del Presidente, che ci ha chiesto di fare della sponsorizzazione per la squadra, che noi abbiamo accettato in quanto già nell'ambito sportivo sponsorizziamo altre squadre, ma non solamente squadre di calcio, ma anche nel settore dilettantistico sportivo di Arezzo e provincia è già da due anni che facciamo questo tipo di sponsorizzazione. Perché crediamo i giovani? I giovani rappresentano il nostro futuro e se crescono in maniera sana, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista dell'educazione, possono solamente far sì che il nostro futuro sia migliore dell'attuale. Un accordo annuale per il momento e poi si spera che proseguino? Esatto, e così l'accordo è annuale e poi dopo, lungo il percorso, si vedrà appunto le evoluzioni future.